A Viata Tricasa è la collaborazione tra 11 centri di eccellenza a livello europeo volta allo studio della demenza frontotemporale, tra le più diffuse e in età presenile all'individuazione di malattie farmacologiche per la sua cura. L'Alleanza è stata sancita durante la prima giornata del workshop internazionale demenza frontotemporale in Europa, organizzato dal Centro per le Malattie Neurodegenerative e l'Invecchiamento Cerebrale dell'Università di Bari all'Ospedale Panico di Tricasa, in collaborazione con il Centro Malattie Neurodegenerative degli Ospedali Civili di Brescia, a cui hanno partecipato 30 scienziati provenienti da tutta Europa. Durante l'incontro sono stati condivisi anche con alcune company farmaceutiche impegnate nella ricerca di nuovi farmaci il primo studio epidemiologico transnazionale e le principali caratteristiche cliniche di questa patologia, spesso di origine genetica. La demenza frontotemporale colpisce persone a partire dai 45 anni, tanto da essere probabilmente la forma di demenza presenile più diffusa insieme a quella di Alzheimer, pur essendo presente anche nelle fasce anziane della popolazione. Quindi abbiamo stabilito la frequenza di malattia in Italia usando dati dal Salento e dalla provincia di Brescia. La frequenza di malattia è di 3 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, che vuol dire in una popolazione di Regione Puglia, che è circa 4 milioni di abitanti, circa 120 nuovi casi all'anno. Quindi è una malattia rara, ma che colpisce molte persone. I scienziati che sono venuti qui per discutere insieme a noi del tecnopologo, quelli che possono essere gli sviluppi nel settore, un settore estremamente critico, perché avere una diagnosi precoce, una diagnosi in tempi veloci e non invasiva, può permettere ovviamente di sviluppare delle terapie che possono essere risolutive. Grazie. 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 Grazie.